Grazie a tutti e cerchiamo di spremere queste opportunità al massimo. La seconda cosa, come ho sempre detto, se vogliamo avere la minima possibilità di avere un impatto in questa lotta disastrosa, perché siamo delle forbiche contro giganti, bisogna organizzarsi in questo modo. Noi siamo gli unici d'Italia che invece di fare le sciocchezze fanno queste cose qua. Rimini, Milano, questa, spero che non faremo delle altre. C'è altissimo di dare libertà azione per armarci. Io domani vado a incontrare Zamparini che ha dei soldi, io spero di spremermi dei finanziamenti per creare in Italia una think tank AMMT dove possiamo fare un lavoro veramente serio, cioè avere degli economisti, avere dei lobisti che fanno un lavoro politico e via dicembre. Questa è la serietà di questa cosa. A Rimini abbiamo avuto 2180 persone, il 90% hanno delle perte di tempo. Questa è la realtà. La gente d'Italia vale feste, non capisce come stanno le cose. Ultima cosa è questa, i personaggi che io vi porto, e incluso a me naturalmente, sono persone di altissimo livello. In questo caso abbiamo Warren Monster. Allora, lette davanti, io non so se non fate i discorsi, non mette davanti un uomo che si siede davanti, dal governatore, dalla banca centrale del canale, per bernacchi, gli parlo, se questo fosse uno studente delle medie, e bernacchi non capisce niente. Cioè, questo è il livello dell'uomo che, come vi spiegherò lui stesso, nel corso della sua vita, non solo ha sostanzialmente inventato una MMT, ma ha anche salvato l'Italia, in un certo senso. Quando era 92, 91-92, quando era il nostro messo delle finanze, e gli fece capire che non esisteva una crisi del debito italiano, una crisi del default italiano. Immaginate cosa sarebbe successo se questo non fosse accaduto, l'Italia aveva seguito già allora il disastroso percorso dell'ospedità di oggi. Vuol dire lavoro, famiglie, milioni di persone, sofferenze, eccetera. Quindi questa è la struttura dell'uomo che abbiamo parlato. Adesso dico un'altra cosa, la giornata si svolgerà in questo modo. Io comincio con lui a fare una serie di domande che devono inquadrare i temi fondamentali che noi studiamo e che dobbiamo chiedere una volta per tutte. Dopodiché facciamo una piccola pausa e dopo, per le rimanenti, se si spera, due ore, e deve diventare un dialogo di queste persone che siete voi, come diceva lì, spero si può morire come protagonisti, e Warren Most. Allora, io, ultima cosa, e poi comincio con le domande. Qualcuno dice che tu sei un esterofilo, porti gli americani, porti i francesi, perché in Italia c'è un sacco di gente in gamba che sa le stesse cose e potrebbe fare la stessa funzione. La risposta è assolutamente no. Io, fino a quando cominciai la mia ricerca sui grandi crimini, andai subito da William Black in America perché sapevo che sono italiani. La sono presa moltissimo, gli accademici italiani si sono incazzati con delle pantere e ha detto che io faccio questa roba perché sono questo esterofilo. Allora, diciamo, facciamo subito un discorso. Se nel Rinascimento un tedesco avesse chiamato Raffaello a insegnare pitture in Germania e se qualcuno gli avesse detto, eh ma cosa chiami Raffaello? Ci sono tanti pittori tedeschi valli, no? Cioè, che senso ha che mai erano così? No, non è vero. Al mondo c'era un Raffaello, c'era un Tintoretto, c'era un Caravaggio, stavano qui, non stavano in Germania. E il tedesco dovrebbe fatto bene a chiamare Raffaello, ok? E nel mondo che noi trattiamo, della comprensione della, di come funzionano veramente le economie del debito e degli stati, ci sono solo queste persone oggi al mondo che sanno veramente spiegarci. Ma ci sono gli italiani, è inutile che se la vengono, non sono capaci di fare queste cose e non le capisco neanche, l'abbiamo anche visto a Milano la scorsa settimana, Nello Fiore, una persona grandevolissima, preparatissima, ma non ci arriva. Allora, ok, comincio con la prima domanda. La prima domanda è questa, che gli faccio. Warren Monster, tu sei uno squalo della finanza speculativa che ha creato, non dico nel tuo caso, ma ha creato delle tragedie internazionali, soprattutto in termini di vita umane, o sei un uomo che si è dedicato all'economia sociale, all'economia salva vita, salva nazione, insomma chi sei per il tuo? E come li metti assieme? Grazie per avermi invitato e mi scuso tanto per essere arrivato in ritardo. E i miei antenati sono lituani, se questo può servire a spiegare il mio ritardo. La risposta è sì, sì, ho dedicato la mia carriera al settore finanziario e le persone che mi hanno permesso di guadagnare si chiamavano Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.D. Morgan, Credit Suisse, la Società General, ecco, erano queste le persone con cui ho lavorato e se prendere sordi da loro è stato un crimine me ne scuso subito. Ma mentre svolgevo appunto questo lavoro, ho imparato come funziona effettivamente il sistema monetario. Praticamente sono un insider da 40 anni nelle operazioni monetarie. Io sono cresciuto proprio nell'ambito bancario negli anni 70, negli anni 70, negli anni 70, negli anni 70. e andavo regolarmente in visita alla Federal Reserve. Parlavo ai ricercatori, ai dipendenti della Federal Reserve e a volte mi incontravo anche con i dirigenti. Per esempio mi sono incontrato con il Presidente Bernanke due volte. Una volta quando era alla Casa Bianca e prima quando era alla Federal Reserve. C'è qualcuno che lavora la Banca Centrale fra di voi? E mi promettete di non lavorare a nessuno? Non lo prenderei a lavorare per me neanche solo per farmi il caffè in ufficio. Non è una cattiva persona. È un accademico. Un professore di Princeton. Bello, una persona, uno studioso, gentile, che ha guadagnato un sacco di soldi. E quindi è una persona anche molto onesta. E così sono anche tutte le altre persone che lavorano alla Federal Reserve. L'unica persona che ho mai conosciuto la Federal Reserve, che ho pensato potesse essere coinvolta di un qualche cosa che andasse al di là del lavoro che faceva. Era un membro del Consiglio, di cui nome non farò, che veniva da Morgan Stanley. Ma a parte questo, sono tutti degli accademici. Ed è per questo che ho intitolato il mio libro L'economia delle frodi innocenti. Praticamente creano delle grandi frodi, ma non sanno fare altrimenti. Ecco, questi sono stati quelli che ho conosciuto. Questa mia esperienza mi ha fatto capire chiaramente esattamente come funziona il sistema monetario. Dovevo saperlo per riuscire ad avere dei buoni risultati. Adesso voglio farvi un esempio. Il Presidente degli Stati Uniti e l'opposizione repubblicana tutti continuano a dire che il governo americano non ha più soldi e quindi deve prendere a prestito capitali dalla Cina per essere in grado di continuare a spendere. e sono andati in continuazione in Cina per parlare con i banchieri per essere sicuri di potersi finanziare l'Afghanistan e la sanità. E questo è una stupidaggine assurda. Se voi doveste pagare le tasse al governo federale con dei soldi contanti diciamo delle banconote da 20 dollari gli dareste questi soldi contanti vi darebbero una ricevuta e forse li ringrazierebbero pure e poi aspetterebbero che ve ne andate e praticamente prenderebbero le banconote e le venderebbero nella quella macchina che macina la carta. E questa è pura verità. Si può comprare praticamente si possono comprare banconote tagliuzzate a Washington. L'ultima volta che ho fatto una conferenza di questo tipo negli Stati Uniti è venuto da me e ha detto sì sì ero proprio io quello che faceva questo. E quindi prendere i soldi della gente e metterli nel trince a carta che cosa serve? Che cosa serve a pagare? Non serve a niente. Non serve a pagare a nulla. C'è qualche cos'altro dietro tutto questo. Quindi il Presidente come può dire non abbiamo più soldi e quando gli si danno questi soldi li mette nel trituro a carta. Il mese scorso quando l'Irlanda doveva ripagare il proprio debito alla Banca Centrale Europea si disse che dopo che avessero ripagato il debito i fondi praticamente erano scomparsi nel computer della Banca Centrale praticamente così non sono scomparsi e allora la domanda è perché dobbiamo continuare a pagare se questi soldi vengono distrutti? E quindi ci deve essere un qualcos'altro dietro tutto questo. Adesso io vado a Federal Reserve e io so come il governo spende i soldi. Quando mi arriva l'assegno della Previdenza Sociale c'è la pensione corrispondente io guardo lo schermo del mio computer e vedo il mio conto 4.000 dollari. All of a sudden succede qualcosa e si vede 5.000 dollari. e che cosa ha fatto la Federal Reserve praticamente hanno preso una moneta d'oro e l'hanno spiaccicata dentro il computer hanno semplicemente cambiato un numero e l'hanno fatto diventare un 5 ed è da lì che vengono questi dollari. La gente dice sì sì stampa carta bonita ecco vedendo questo stato di cose a questo punto ci si può chiedere come ho cominciato a interessarmi allo stato sociale non potevo stare lì a guardare tutti i paesi del mondo perché si distruggevano distruggevano se stessi perché le parti tenevano ed erano sicuri che lo stato non avesse più soldi proprio praticamente tutti quanti nelle banche centrali sanno esattamente che non stanno così le cose la banca centrale europea ha praticamente ha dato via 500 miliardi di euro l'hanno chiamato LTR il fondo salva stato possono dargli il nome che vogliono e nessuno ha chiesto da dove venivano questi soldi e venivano già allo stesso posto da cui venivano i dollari americani hanno semplicemente cambiato i numeri non esiste mancanza di soldi non esiste una cosa del genere e mi sono reso conto e il motivo per cui al momento in cui si parlava dell'austerità nel 94 95 93 rossi Ross ross dossi rossi 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 Ma non esisteva questo problema di cui parlava. E non mi sono sentito obbligato a ballare, ad alzare la voce. Proprio è una questione di coscienza. Se si vede qualcuno che sta negando e si sa nuotare, allora viene naturale cercare di aiutarlo. Forse nessuno mi sta guardando o ascoltando, però l'autore viene offerto, se sia un medico, se viene una persona che sta muorendo di ssacquata, alcuni medici decidono di aiutarla. Ecco qua, è semplicemente una questione di coscienza. Ok, allora adesso io faccio alcune domande, cominciamo ad andare un po' sparati. Allora, faccio una domanda in italiano, tu traduci solo la risposta. Ok, parliamo del default possibile del sistema euro, quindi ritorniamo a bomba su questo problema. Ok, parliamo delle possibilità dei nazionali in l'eurozone. Ok, quindi abbiamo una questione di Zimbabwe in Africa, in Africa. Ora, punto numero uno, diciamo che l'euro dissipearsene e noi raggiungiamo la sovrenza, come l'euro o qualcosa. Ok, quindi, massive currency depreciation, is that gonna happen? Ci sarà un depreciamento della nuova moneta che perderà completamente di valore, darà un 70% o meno di quello che vale l'euro? Would that happen? Massive depreciation della nuova moneta? Sì, ci potrebbe essere anche un aggiustamento. Ritornare alla lira è piuttosto semplice. Il governo smette di tassare gente in euro e invece comincia a tassare nuovamente solo in lire. E adesso c'è una tassa che nessuno chiede. C'è una tassa in qualcosa che nessuno possiede. Cioè, quando introduci le nuove lire, il governo tassa in lire, a quel punto nessuno li ha ancora le lire. Per cui c'è una tassa in qualcosa che nessuno ancora possiede. Ok. E adesso, a questo punto, c'è un bisogno disperato di lire. Se non si riescono a pagare le tasse in lire, si può perdere la casa, la macchina, si può perdere tutto. Quindi la gente ha bisogno di lire. A questo punto, il governo comincia a pagare in lire. E quindi queste lire immediatamente acquisiscono valore, perché sono necessarie per pagare le imposte. A seconda di quello che il governo decide di pagare in lire, ci potrebbe essere un aggiustamento univoco. Per esempio, se decide di pagare, diciamo, troppo, che questo è un importo da decidere, allora ci potrebbe essere un aggiustamento verso il basso. Quando è arrivato l'euro, che cosa è successo? Tutti hanno cominciato a tassare in euro. Immediatamente, quindi, c'è stata una grande domanda di euro. Tutti venivano pagati in euro. E quindi i soldi che loro ricevevano in pagamento servivano a soddisfare la domanda. E c'è stato, quindi, un aggiustamento, un abatto di valuta. Da questo punto in avanti, la politica pubblica determinava quello che sarebbe avvenuto alla valuta. Quando, per esempio, nel 1994 c'è stato il problema in Messico, la valuta è calata del 70%. Ma si è trattato di un aggiustamento un abatto di euro. E da allora le cose sono andate avanti così. Quando c'è stato il problema nel 1998 in Russia, anche qui un aggiustamento un abatto. Ma la valuta è andata dal 6,45 a 28%. Ed è lì rimasta successivamente. Quindi se si fa un grosso errore con la propria valuta, si può fare un aggiustamento, una tanto, una volta. E questo aggiustamento, una tanto, ma è molto diverso dall'inflazione. Seconda cosa, una delle paure è la fuga dei capitali. Ci sarà la fuga dei capitali dell'Italia. Il business toglierà i soldi, scapperanno di tutti con gli investimenti. Capital flight, massive danger or just a fact? Con una valuta, tasso di cambio variabile, fluttuante, quella che noi chiamiamo la valuta fiat, diciamo che non esiste una cosa che si possa definire fuga dei capitali nel modo in cui la gente tende a pensare. L'idea della fuga dei capitali viene dallo standard aureo, dal gold standard. Quando l'oro usciva dal paese, a causa di un problema commerciale o un deficit commerciale, si compravano prodotti all'estero e quindi all'estero prendevano i vostri soldi. Andavano alla vostra banca centrale, prendevano l'oro e li portavano via con sé. Ecco, praticamente il capitale era presentato dall'oro e quella era la fuga di capitale. Per cui adesso questo è completamente inapplicabile, non vige questa situazione. Oggi, per esempio, se un qualunque paese avesse dollari statunitensi, si trovano in un conto presso la Federal Reserve. Gli euro si trovano invece alla banca centrale europea. Se si hanno dei soldi in un'altra banca in euro, questa banca ha un credito nei confronti della banca centrale. Per cui le banche agiscono da agenti, per così dire. Quando c'è una fuga di capitali, cosa succede? Succede che i dollari, per esempio, rimangono nella Federal Reserve, ma il nome sul conto cambia. I dollari non vanno in nessun posto, cambia solo il nome sul conto. Se qualcuno a New York, per esempio, compra qualcosa da un'altra persona in Messico, e si chiama Joe, e l'uomo in Messico si chiama José, il nome sul conto alla Federal Reserve passa dall'essere Joe ad essere José. Praticamente non c'è fuga di capitale, il capitale non si muove. E questo non significa che una valuta non possa salire e scendere. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi per quello che riguarda la fuga di capitali quando si ha un tasso di cambio variabile. Non ci sono delle riserve da perdere, non ci sono riserve presso la Federal Reserve da perdere. Littera idea e anacronistica.